Tu ci hai raccontato che sei arrivato verso le 18 giusto a casa di tua sorella. Sì, esatto. Poi fino a che ora avete guardato tutti insieme, eravate in cucina a guardare questa duranza via zoom? Sì, finisce rigorosamente alle 9 e 3 quarti per cui lì abbiamo staccato. Poi avete cenato, cosa avete fatto? No, abbiamo cenato nel Duranti, non mi ricordo se dopo abbiamo spizzicato, comunque siamo stati insieme senza una reale motivazione, non c'era uno scopo. Cosa avete fatto poi nell'ora successiva? Quello me lo chiedono in tanti, ma era una cosa talmente soft e talmente normale per noi che non ci ricordiamo di qualcosa in particolare, non c'erano delle motivazioni, un obiettivo per stare insieme in quella serata. Avete chiacchierato, hai giocato con il cellulare con tua nipote, non ricordi? No, assolutamente no. Avete visto la televisione magari? No, la televisione ricordo che non l'abbiamo accesa, assolutamente. Non c'è qualcosa che ti ricorda di quell'ora, all'ora e mezza magari così che ti viene in mente, sai, in modo di flash? No, anche perché ero talmente a pezzi, perché ho avuto una giornata molto particolare, dalla mattina alla sera, e tra l'altro non ero neanche tornato a casa, ero andato direttamente a trovare lui per via dell'incidente. Fino a che ora sei stato a casa di tua sorella? Allora, dalle foto che mi ha fatto vedere mia sorella, io alle 11 ero ancora lì. In merito a quelle fotografie, cosa ci puoi dire di più, questo cane che compare, che non compare? Ci avevi raccontato che stavi giocando a terra con il cane, invece qual è la verità? Allora, la verità è che stavo per terra e c'avevo il cane tra i piedi, quello sì. Logicamente mi ero buttato per terra, non per giocare col cane inizialmente, ma perché ero stanco morto, dovevo andare a casa e non c'evo voglia. La cosa che ci ha fatto divertire è che il cane, che di norma, come dice mia sorella, è diffidente, ha iniziato a buttarsi di peso su di me, mentre ero in quella posizione. Dopodiché mia sorella e mia nipote sono spostate sul divano per fare la foto, però da quel momento il cane ha iniziato a tenere distanze da me.